Ciao a tutti, questo è il mio primo video e dato che è il mio primo video ho deciso di fare una cosa molto molto speciale mi sono sempre chiesto cosa provate voi donne quando vi fate belle? chi mi ha dato l'ispirazione è stato Mel Gibson esattamente quando ha girato il film What the Women Want che cosa vogliono le donne? vedendo quel film ho avuto appunto l'ispirazione per questo video che cosa provate voi donne quando vi fate belle? chi me l'ha fatto fare come primo step sono andato a comprare i prodotti al supermercato sono rimasto senza un euro sono tornato a casa ho iniziato la mia prima sfida la ceretta 1,2,3 no perchè me ne stai facendo un'altra adesso? per aspettare un attimo aspetta aspetta 1 ma le gambe va bene così voi siete pazze allora non ce la facciamo più la ceretta non ce la facciamo più la ceretta no basta 1 2 la seconda sfida sono state le sopracciglia perfetto va bene andiamo avanti la mia cara e adorata Debbie mi ha messo di fronte una serie di trucchi mai visti e dovevo truccarmi e così ho fatto serve per tagliare l'embre che cosa è? ecco leggiamo leggiamo fondotinta giusto? quindi questo fondotinta è il... ma alla parola non la devo fare anche il naso giusto? certo gli occhi ma che cazzo mi sta succedendo? devo fare così giusto? nel... leggi cosa c'è scritto nella scatulina? ecco sondra ah nel... dove ho messo il fondotinta? va bene ah no qui qui giusto ah ok ma perchè mi hai messo tutti questi pennelli? e perchè ce ne sono due tipi? ne uso solo una allora vediamo con questo dai aspetta ok non mi dà troppo fastidio mi viene da lacrimare sembra lo spazzolone princesso mi aggrappa le sopra le ciglia bravo si ho detto che mi riesco a tenere aperto l'altro occhio quindi stanno un pochino alla cecca ok aspetta un attimo queste le donne lo fanno ogni giorno Matteo per sentirsi più belle io mi sento una merda una merda tu ti sei truccato bene cosa scusa io mi faccio la doccia in 5 minuti uso doccia a schiuma qualsiasi che contenga petrolio, silicone, catrame non me ne frega niente uso shampoo che sia per capelli lisci ricci, ondulati broccoli, mossi è indifferente quanto ci ho impiegato con i prodotti che usate voi voi ragazze tendete a farvi la doccia fredda perché tonifica io farò questo è verissimo ok la oh my god oh my god oh my god oh my god Che c***o donifica un panni di c***o? E' andato Due volte più lisci Ma che f***o? Un attimo Voi doni usate anche il balsamo? Ok così Ora girano Sì così Chiudi, chiudi Gira, gira, gira Spero vi sia piaciuto Ho in mente tantissime altre sfide Che vi farò vedere nei prossimi video Ricordatevi di mettere pollice su a questo video Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale E se volete condividetelo anche su Facebook Grazie a tutti Grazie a tutti.